Oggi è stato dato il via alla piantumazione degli alberi del Parco Balate. Sono stati 300 traccipressi, sughere, roverelle e caccami, gli alberi messi a dimora. Il progetto di riqualificazione naturalistico-ambientale di una zona periferica della città che ha visto il lavoro dei progettisti Petrotto, Dell'Utrilunetta, Strazzeri e con il dirigente Giuseppe Dell'Utri e l'assessore all'ambiente Marcello Frangiamone. Questo è un intervento naturalistico perché in questo momento stiamo integrando delle essenze mediterranee come il cipresso e altri alberi che sono appunto endemiche delle nostre zone nel contesto della vegetazione già esistente del Parco Balate. Per cui noi in questo momento stiamo andando a inserire all'interno del Parco Balate una serie di essenze che vanno a integrare quelle precedenti. Questo per noi è un grande passo perché è l'inizio della realizzazione della foresta urbana. La foresta urbana ci porta all'interno di un meccanismo nuovo che è quello del blocco del consumo del suolo che sarà il leitmotiv del nuovo piano regolatore. Un'area verde del quartiere della periferia del comune di Caltanissetta destinata a verde pubblico che il comune stesso ha reso fruibile attraverso una pianificazione partecipata. In totale gli alberi saranno 750, uno per ogni studente universitario del Consorzio Universitario Nisseno. È stata una splendida iniziativa per riqualificare una zona di Caltanissetta che peraltro è una bellissima zona e possono essere ideate tante altre iniziative. È ovvio che questo rappresenta un fatto storico sotto il profilo dell'iniziativa per la rappresentatività di ogni ragazzo dell'università rappresentato da un albero e spero che possa aumentare, che si possa allargare ancora di più rispetto alla quantità degli studenti rappresentati da un albero da pianto mare presso questo bellissimo luogo. I lavori consistono nella manutenzione del verde già esistente, nella piantumazione di nuove essenze ma anche negli interventi di irrigazione e potatura. L'area dedicata al parco ha un'estensione di 10.000 metri quadrati. Oltre ai 750 nuovi alberi sono presenti due giardini con agrumi e olivi secolari, spazi destinati a un frutteto e un orto urbano che avrà anche lo scopo educativo con attività delle scuole di guidare i giovani nisseni a conoscere meglio la natura. Due gli ingressi per il pubblico, uno da Via delle Calcare e l'altro da Via Giorgio Lapira. L'importo complessivo del progetto monta poco meno di 100.000 euro.